Ciao a tutti bentornati sul canale è arrivata la nuova spedizione a Shet di Mazinga Z e questa volta oltre ad esserci i soliti quattro numeri che questa volta vanno dal 40 fino al numero 43 c'è anche l'omaggio riservato ovviamente agli abbonati ed è il primo raccoglitore come potete vedere diciamo qui c'è scritto che è riservato agli abbonati vendita vietata quindi ovviamente nel video di oggi adesso andremo a vedere i fascicoli quindi cosa dobbiamo fare in questa nuova fase andremo chiaramente a mettere tutti gli altri fascicoli vecchi e questi all'interno di questo primo raccoglitore dopodiché nel video di domani andremo ad effettuare il montaggio sperando che non ci siano problemi ma da quello che ho visto già da chi è più avanti di me sembrerebbe filare tutto liscio come l'olio quindi non ci perdiamo in chiacchiere ed iniziamo ad analizzare questi fascicoli allora iniziamo aprendo il numero 40 qui vediamo che c'è questo perno una vite fondamentalmente una specie di vitone e un'altra placca adesso andiamo a vedere esattamente dove vanno montati questi pezzi così per renderci conto di quello che dobbiamo fare domani allora pilastro centrale quindi qui abbiamo la piastra centrale il pilastro centrale l'ancoraggio metallico due viti a brucola due rondelle e la chiave esagonale ci danno un'altra chiave ma noi stiamo usando il nostro cacciavite speciale quindi diciamo che non ci serve allora dobbiamo andare ad infilare diciamo questo perno all'interno della sezione che avevamo costruito la volta scorsa quindi se non ci sono problemi che sta diciamo quindi se è stato montato tutto bene questo è il risultato finale che otterremo alla fine del numero 40 apriamo il numero 41 e qua ci sono solo questi due pezzi che mi sembrano assolutamente già pre assemblati ma andiamo a vedere di cosa si tratta allora sono gli innesti delle articolazioni inferiori quindi l'uscita non richiede montaggio c'è scritto anche qui quindi con questo numero ha ricevuto due importanti elementi strutturali per mazzinger z che verranno impiegati con le istruzioni dei fascicoli 44 quindi praticamente non c'è da fare nulla in questo numero con il numero 42 riceviamo invece questi pezzi qui che invece suppongo debbano essere assemblati allora andiamo a vedere subito la struttura toracico addominale quindi siamo in questa parte qua e riceviamo 4 ancoraggi metallici piastra di connessione 2 snodi toraci 2 snodi addominali 8 anelli 3 viti 9 viti a brucola 3 viti a brucola e 11 rondelle quindi ci sono delle viti forse diverse di grandezza allora quindi va costruita questa struttura tramite questi pezzi che ci sono qui dentro e praticamente questi pezzi costruiti vanno infilati in questi due buchi di sotto nella struttura centrale poi vabbè vanno bloccati ovviamente qui qui c'è scritto attenzione regolerai la tensione degli snodi in un secondo momento per ora non stringere eccessivamente le viti perfetto questo è il consiglio che di solito vi do sempre anche io e si va avanti con la creazione il montaggio diciamo di questa struttura addominale si vanno a mettere tutti gli altri pezzi che abbiamo compresa la struttura che abbiamo completato nel numero 40 quindi a questo punto una volta terminate assemblate tutte le parti si arriva ad avere questa parte qui io l'ho già ho già detto mille volte lo ripeto questo modello di mazinger z è in assoluto il migliore di qualsiasi cosa io abbia fatto fino adesso perché mi ricorda molto il meccano e una struttura interna così è pressa poco indistruttibile ultimo numero di questa spedizione ovvero il numero 43 ci fornisce altri pezzetti non tanti ma in generale sicuramente c'è roba da montare allora siamo sempre hanno la struttura articolare delle gambe perfetto quindi riceviamo ancoraggio metallico raccordo metallico raccordo metallico nove vite a brucola due vite a brucola nove rondelle due rondelle grandi ok poi sono curioso di vedere la differenza tra queste viti lo vedremo domani e qui diciamo si inizia a costruire la prima parte della struttura articolare quindi mettendola qui sotto diciamo si va a creare questa parte questa parte qui chiaramente poi sarà bloccata sempre con le solite viti a brucola e ok con questa vite centrale che blocca il perno in mezzo si arriva a questo risultato che devo dire molto soddisfacente anche solo così dalla foto mentre nel prossimo numero continueremo a lavorare sulla struttura articolare delle gambe per quanto riguarda invece il raccoglitore omaggio per gli abbonati andiamolo a vedere subito mi sembra di qualità oggettivamente rispetto a quelli che vengono regalati è sicuramente migliore adesso vado ad aprire qua questo blocco e chiaramente posso inserire i fascicoli dal numero uno a salire adesso inutile che ve li mostro come l'infilo uno a uno ma insomma una volta messi qui dentro diciamo saranno pressa poco sicuri per sempre allora ecco questo è l'ingombro di 39 numeri chiaramente gli ultimi quattro non li ho messi perché ce li metterò dopo aver finito questa fase del montaggio diciamo che c'è spazio sufficiente per arrivare ben oltre la metà anche se immagino che ce ne sarà fornito un altro prima della fine dell'opera ma per adesso diciamo sono molto soddisfatto anche così allora quindi la fase di montaggio mi sembra relativamente semplice anche se lunga sicuramente sarà lunga abbiamo un numero dove non dobbiamo fare niente quindi saranno da lavorare tre soli numeri ma insomma sono tanti passaggi poi il pratico raccoglitore è sicuramente molto bello guardate che diciamo è anche molto ben fatto lo spessore dei materiali e diciamo lo spazio interno rende sicuramente molto valido questo prodotto quindi un valore in più per abbonarsi diciamo un motivo in più per abbonarsi quindi sicuramente io consiglierò sempre l'abbonamento detto ciò vi rimando al video di domani dove andremo a montare fisicamente questi numeri sperando appunto che sia solo lungo ma senza problemi detto ciò vi chiedo il solito pollice in su se vi è piaciuto il video e vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così da non perdere nessuna delle prossime fasi di montaggio del nostro mazzinger z detto ciò vi saluto ci vediamo molto presto nei prossimi giorni ciao